Oh, papà che bello, è bellissimo, questi sono i brucoli che mi piacciono, non ce li hai mai così. Mamma mia, è un virus, è un alieno questa roba. Scusa? Mamma mia. È possibile che sia questa roba? Beh, vedrai. Piano, fa piano. No, no, non macchia. Ma non ho messo odò, eh? Se la nostra forza di volontà è stata già intaccata dall'alcol... Oh, non resistono veramente? Pensavo che fossero solo una leggenda. Dona quanto? Sarà 10 cm di brufolo. La torcigliata, lo spaghetto? Non è possibile. No, no. Che bello che ha papà, grazie. Siamo un tubo di cosa? Un tubo di colla. Mamma mia. Che bello. Ti faccio male, scusa. Siamo un dentifricio. Siamo un dentifricio. No, non ci credo. Ma dai! Guarda, guarda, guarda. Ma che bello. Aspetta, ce n'è ancora attaccato. Sì, è possibile. Sì, è possibile. Non potete decidere se vi deve parlare. È sicuramente una cittura da parte dei miei.